Fortuno, spostata lei, cosa ne pensa? Io penso che deve essere una manifestazione di tutti, non di una parte, a cui tutti è bene che partecipino, anzi credo sia positivo, se ho capito bene che Michetti ha detto che parteciperà, quindi è una manifestazione a difesa dei valori costituzionali, della democrazia, contro l'estremismo e la violenza, quindi è una manifestazione di tutti, che è giusto che ci sia, perché è bene che ci sia una risposta larga e unitaria a fatti e a violenze che sono inaccettabili, era dai tempi dell'avvento del fascismo che non si faceva un assalto a una sede di un sindacato, sono state commesse violenze dentro il policlinico, è stato devastato il centro di Roma, quindi qui non c'è destra, non c'è sinistra, ci deve essere una larga unità a sostegno dei valori della democrazia e della Costituzione. Com'è andato l'incontro con Pietro?